Buongiorno, bentrovati, il 17 giugno sabato in regia c'è Donato Mignogna. Festa dei Santi Martiri di Venafro, i lavori di riqualificazione di Villa Maria hanno restituito ai giardini pubblici della città una nuova vita. L'impegno del gruppo Scarabeo, primo esempio in Molise di capitalismo solidale, ha riportato l'area, l'unico polmone verde di Venafro, agli antichi splendori, per cui era stata a suo tempo pensata e realizzata. Ce ne parla in questo servizio Enzo Di Gaetano. Villa Maria di Venafro, un'area sempre più vivibile. I lavori di riqualificazione finiti in occasione della festa dei Santi Martiri hanno restituito ai giardini pubblici della città una nuova vita. L'impegno del gruppo Scarabeo, primo esempio in Molise di capitalismo solidale, ha riportato l'area, l'unico polmone verde di Venafro, agli antichi splendori, per cui è stata a suo tempo pensata e realizzata. Diversi lavori di riqualificazione e manutenzione che sono stati portati a termine, a cominciare dai giochi per i più piccoli, passando per il completamento dell'impiantistica con illuminazione a LED e la videosorveglianza di tutto il parco, per finire alla realizzazione di un'isoletta ecologica che nasconde alla visuale i cassonetti della raccolta differenziata dei rifiuti, rendendo così l'area ancora più godibile. Un impegno costante del gruppo Scarabeo verso la città di Venafro, che in questi anni ha restituito decoro ad una zona vitale per la città, che così può usufruire di spazi attrezzati per le iniziative che si vogliono portare avanti. Immobilismo, approssimazione, inadeguatezza. Impietoso il giudizio espresso dal centro-sinistra nei confronti della giunta da Pollonio. I vertici cittadini della coalizione si sono riuniti durante un vertice organizzato in via aberta dal Movimento Comunità Attiva. Un anno fa, al termine di una dura battaglia tutta interna al centro-destra Isernino, Giacomo da Pollonio conquistava la fascia tricolore. A 12 mesi esatti dal voto che ha portato il generale sullo scranno più alto di Palazzo San Francesco, Comunità Attiva ha chiamato a raccolta il centro-sinistra per valutare l'operato del sindaco e della sua giunta. promotore dell'iniziativa Giuseppe Ilieri, leader regionale del Movimento, che ha chiesto all'amministrazione un cambio di passo per tentare di salvare una città agonizzante sotto il profilo economico e sociale. La definizione che possiamo dare a questo primo anno di amministrazione è che è affetta da annuncite. Questa grande malattia che colpisce l'amministrazione in questo primo anno, che ha portato appunto alla proclamazione di numerosi annunci, ricordiamo i 18 progetti, i megaprogetti da realizzare, ma altre, che poi però purtroppo non si sono realizzate. Due fra tutte le voglio sottolineare. Il primo riguarda la piscina comunale, il cui primo annuncio di apertura o di emissione del bando è datato ottobre 2016. Ad oggi questo bando ancora non è pervenuto, quindi 2016-2017 ancora nulla. La seconda piccola, il secondo piccolo chiarimento riguarda l'idea di aprire una sede di architettura a Disernia, annunciata nell'aprile del 2017. Bene, grazie ai contatti di comunità attiva abbiamo una risposta scritta da parte del direttore di Dipartimento di Architettura di Roma 3, che comunica che non è assolutamente al corrente di alcune iniziative in tal senso, né lei né nessun altro all'interno dell'Ateneo. C'è una risposta scritta e siamo pronti a fornirla. Dalla piscina comunale al parco stazione, dal centro storico all'edilizia scolastica, per Roberto Di Baggio è lungo l'elenco delle promesse elettorali tradite dal centro-destra. La giunta da Pollonio, a giudizio dell'esponente di Disernia prima di tutto, si è distinta per approssimazione, immobilismo, saccenteria. Da questo anno si è capito una cosa, si è capito che non è per loro amministrare una città, che non hanno assolutamente le capacità, i mezzi e soprattutto la preparazione tecnica per fare gli amministratori. Hanno villandato negli anni chissà che cosa, la gente purtroppo è cascata in questo tranello e in virtù di forti divisioni e di un voto molto basso, che la gente ha da votare pochissimi, sono riusciti ad ottenere questa maggioranza che oggi provano a governare, ma in realtà non hanno i mezzi. Il problema serio è che la città non è che è ferma, la città sta andando indietro, la città non programma, la città è indietro rispetto soprattutto agli altri paesi e al capologo di regione che è il campo basso. Intanto Formichelli, Di Baggio, Di Luozzo ed Onorato hanno presentato ricorso al TAR rispetto all'approvazione del bilancio. I quattro esponenti di centro-sinistra ritengono che la documentazione sia stata inviata ai consiglieri, ben oltre il limite previsto dalla legge. Il ricorso, ha spiegato Rita Formichelli, è uno strumento per ribadire che la minoranza non può essere sistematicamente vilipesa. Avevamo chiesto di rinviare il Consiglio Comunale perché non c'erano i tempi, perché noi potessimo leggere e fare le giuste osservazioni. Premetto che avevamo fatto delle osservazioni al programma triennale, non c'era stato risposto. E quindi a fronte di tutto questo, invece di accogliere la nostra istanza, che non avrebbe comportato nessun problema, né formale né sostanziale, il Consiglio si è tenuto lo stesso e quindi noi abbiamo ritenuto di dare anche un segnale forte all'amministrazione, ma questo nell'interesse di tutti i cittadini che a questo punto non sono veramente rappresentati. È tutto con la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Iniziamo con il giornale del Molise.it. In primo piano la sanità, in particolare il piano sanitario regionale che è diventato legge. Ruta, il senatore Ruta dice, è stata smantellata la sanità pubblica. Uno sfregio a tutti i molisani. Le altre notizie avete sentito anche nel nostro notiziario Villa Maria di Venafro, un'area sempre più vivibile. Adesso ci spostiamo a Termoli, procurato allarme Costa Molisana. Denuncia alla procura di Larino, sono stati denunciati alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle da parte di Conf Commercio e il sindacato Balneari. Ancora la sanità tagli, lettera Paolo Frattura, le auguro di vivere la mia disavventura. Vediamo qualche altra notizia. Fa tappa a Termoli, consultorio in piazza, visite ed esami gratuiti oggi. A Campobasso, inaugurazione la città dei misteri tra borghi e tradizioni. Sulla legge, sulla cosiddetta buona scuola, l'intervento del consigliere regionale Massimiliano Scarabbeo, la buona scuola dice, ma non per il nostro Molise. Ancora su il progetto Mi fido di te, no, meglio non fidarsi, la storia dell'ennesimo pacco rifilato da Frattura ai molisani. La cronaca da Rotello, vasto incendio in contrada cornicione, squadre del Vigile del Fuoco da Santa Croce e Termoli. Nella sezione editoriali Idee e Opinioni, nella rubrica Scritti vaganti, si parla dello Just Soli, un segno di civiltà. L'articolo è a firma di Michele Mignogna. Andiamo su primo piano Molise. Anche qui c'è la politica in apertura, ruta, molla, frattura, ma assicura, non sarò io il candidato governatore. Le rivelazioni sulle regionali 2018. Al lavoro per l'alternativa, il direttore Palmieri e il giudice Di Giacomo, tra i papabili. Dunque il senatore esce allo scoperto nel corso della conferenza convocata per illustrare il no alla manovrina. Il piano sanitario, legge dello Stato, è uno sfregio ai cittadini, ha detto Roberto Ruta. A centropagina da Isernia, il centrosinistra, avete sentito, si ricompatta e affonda da Pollonio. Tanti annunci, pochi di fatti. Andiamo a vedere le notizie sotto la testata. Depuratore di Termoli. Confocommercio denuncia il Movimento 5 Stelle per procurato allarme per quanto riguarda appunto lo sversamento in mare del depuratore. A Campobasso il Corpus Domini entra nel vivo. Sicurezza, la città risponde bene alle misure straordinarie. Le notizie di spalla. Boiano, la cronaca, la banda del buco in azione al bar della Esso, portati via liquori, gratta e vinci e tabacchi per 25 mila euro. Ancora Termoli, auto contro scooter, la Centaura si rialza e aggredisce l'uomo che era alla guida. Entrambi finiscono in ospedale. Ancora Termoli colto in flagranza, mentre Ruba Rotoballe di Fieno, 36enne, finisce in manette. Ci spostiamo al stabilimento Fiat. Fuga di massa dal sindacato USB. 14 esponenti su 20 lasciano e avviano un nuovo progetto. Il calcio, quello di Serie D. Siamo a Campobasso, lupi, non ci sono imprenditori. Naufraga il progetto holding. Ci spostiamo ad Agnone, dove è festa. Ci si prepara a vivere una giornata storica per i 50 anni. Un approfondimento, anche un richiamo, sul campionato di basket universitario. Il Cus Molise passa il turno e lancia la sfida al Bologna. Passiamo adesso al quotidiano. La notizia di apertura è titolo. Tratturi, tre regioni verso un unico percorso. Siglato l'accordo tra i presidenti del Consiglio regionale del Molise, Abruzzo e Puglia per promuovere le cosiddette autostrade verdi. In alto, ruta, resto nel Partito Democratico e punto a riunire il centro-sinistra. L'approvazione del programma operativo straordinario, aggiunto il senatore, è uno sfregio alla democrazia. Di spalla programmazione europea, giudizio positivo del Comitato di Sorveglianza, ieri in riunione a Sepino. Siamo a centro pagina, notizie che riguardano Campobasso. Iniziamo dal Corpus Domini, c'è la mappa dei servizi e anche le istruzioni per l'uso. Mentre sempre dal capoluogo, Polizia Municipale in stato di agitazione per l'organico. Gli agenti chiedono risposte all'amministrazione sulle nuove assunzioni. Svolta ad ottobre, dicono, altrimenti scioperiamo. In basso, ladri all'area di servizio di Boiano Bottino da 30 mila euro. Mentre da Campobasso, detenuto, tenta il suicidio salvato dalle guardie. Ci spostiamo a Pozzilli e a sorpresa si dimette il vice sindaco Ambrosio. Anche qui il calcio di serie D, quello non giocato, ma ci sono problemi per il Campobasso, tramonta l'idea holding, politica e imprese promettono sponsor. Sanità in apertura anche del quotidiano telematico futuro Molise. Nella rubrica editoriale Molise Sanità nell'area Frattura. La parola ai malati di cancro. Più si affermano patologie invalidanti, è stato detto, e meno servizi sanitari si offrono. Dai Sernia, comunità attiva, chiama in riunione il centro-sinistra. Bilancio nerissimo per l'amministrazione da Pollonio ad un anno dall'insediamento. Notizia che riguarda la cultura. Recanati, prima edizione del premio Giacomo Leopardi. Menzione speciale per lo studente Isernino Edoardo Rispoli. Notizie non, come dire, soddisfacenti per quanto riguarda gli automobilisti molissani. Si parla di aumenti dell'assicurazione e rincari maggiori in Trentino e Molise. Da Campobasso, Corpus Domini, l'intervento di Polegi, dice Battista, chieda scusa ai cittadini e torni sui suoi passi. Dai Sernia, prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti, tracciato in prefettura il bilancio dell'attività della Guardia di Finanza. Aperture diverse per i quotidiani nazionali di oggi. Iniziamo con il Corriere della Sera. Un ricordo di Collo, un grande tedesco, un grande europeo. Titola Corsera. Aveva 87 anni e è morto il cancelliere. L'ex cancelliere cambiò la Germania dopo la caduta del muro. A centropagina l'asta per le popolari Venet. Il tesoro prepara l'ingresso pubblico mentre parte la selezione dei partner privati. Il salvataggio dei due istituti, decreto del governo, congela i bond per avere più tempo. Chiudiamo il Corriere e andiamo su avvenire il quotidiano della CEI che apre con la notizia della morte di Helmut Kohl, un padre d'Europa. L'ex cancelliere tedesco, cattolico della CDU, aveva 87 anni, seppe governare la caduta del muro e contribuì alla nascita dell'euro. Cittadinanza, Alfano si fa attentare dal no. Intanto rissa al Senato sullo Ius Soli. La Lega insiste, battaglia anche fisica. Dall'avvenire al tempo, in attizia di apertura riguarda la capitale, 6 mila vigili urbani a guardia delle buche. Follia a Roma, agenti mandati a presidiare le voraggini nelle strade. Oltre 3 mila interventi negli ultimi 5 mesi e si rompono pure gli autobus. Qui una notizia diffusa nelle ultime ore. L'annuncio della Russia, ucciso il capo dell'Isis. Forse aggiunge il tempo, anche perché le notizie del genere si erano diffuse anche qualche tempo fa. E poi sono state smentite. Il sole è il fatto quotidiano. Panico da Consip. Renzi caccia il testimone Marroni per salvare gli indagati Lotti e compagni. L'amministratore delegato non ritratta le accuse a Luca e Tiziano. Il PD lo sfiducia. A centro pagina i voucher, Camusso in piazza, la CGL in piazza, il governo dei poteri forti è stato detto. Oggi mobilizzazione nella capitale. Dal fatto quotidiano alla stampa di Torino, che dedica spazio alle province definite fantasma, nessuno ripara strade e scuole. C'è l'intervento dell'UPI, che è l'Unione delle Provincie Italiane, senza finanziamenti soppressi i servizi. Ecco il conto dell'abolizione a metà, scrive la stampa. Tagliati i fondi, non le competenze. E adesso il sole 24 ore, che apre con le notizie che riguardano Veneto Banca, ha sospeso il pagamento del bond. Decreto lampo del governo, stop ai rimborsi dei titoli junior per sei mesi dalla richiesta del sostegno pubblico. Tanto l'Unione Europea vara la riforma definita soft dei bilanci bancari. Su Repubblica, in primo piano, le conseguenze dello sciopero di ieri nei trasporti. Il quotidiano titola così sciopero. Le città in tilt, interviene il ministro del Rio, dice è inaccettabile. Ora cambiare le regole. Una minoranza di lavoratori non può bloccare tutto. Gubitosi, assurdo fermare l'Italia in questo momento. E poi si parla dello ius soli, la politica divisa. È il valore della cittadinanza. Chiudiamo Repubblica, andiamo a vedere Libero. Hanno fermato tutto, anche il loro cervello. Anche qui si parla dello sciopero dei trasporti sindacalisti, definiti incoscienti. I Cobas bloccano aerei, treni e bus per rivendicare il diritto a incrociare le braccia, senza rendersi conto che c'è già ed è il più garantito. Il governo li critica, però non fa nulla per tutelare chi subisce le proteste. Da Libero adesso al Messaggero, altro quotidiano della Capitale. Anche qui caos scioperi, la resa dei partiti. Il blocco delle piccole sigle sindacali paralizza Roma. Fermi in metro, bus e ferrovie urbane. Va meglio in altre città. Del Rio, il ministro del Rio, serve una stretta matocca al Parlamento. Il garante interviene, interviene anche il garante, la legge cambi, è stato detto. Adesso vediamo il manifesto, la partita del lavoro. Si fa riferimento ai voucher, alla mobilitazione della CGL. Questo governo, una frase virgolettata, annulla il referendum e risponde solo alle imprese. Dunque Susanna Camusso chiama i lavoratori alla manifestazione di Piazza San Giovanni contro i voucher e lo strappo alla democrazia. In questa partita per il lavoro e i diritti, anche i fuoriusciti del PD e le forze della sinistra. Intanto, visapia alla leader CGL, sono con voi. Dal manifesto, adesso alla verità con questo titolo, dall'Africa importiamo siero positivi, l'emergenza ignorata. Il 50% di chi arriva da sotto il Sahara ha l'HIV, dunque l'AIDS, e ogni 10 nuovi malati in Europa. 4 sono stranieri, i dati diffusi da esperti di tutto il mondo, che avvertono molti contagi avvengono nei centri di accoglienza. Questo è quanto scrive il quotidiano La Verità. Andiamo sul secolo d'Italia, sarà referendum, si parla di Just Soli, vedete dei migranti. In basso, invece, centrodestra ed elezioni, c'è il dovere dell'unità. Un riferimento anche alla politica estera, Trump è davvero indagato, ora attacca proprio tutti. Uno sguardo al mondo dello sport, sulla Gazzetta, che dedica spazio a Donnarumma, la Juve ci prova, le grandi manovre attorno a Donnarumma e al Milan. In alto, Ronaldo Schock è infuriato con il Real, indagato, vado via. E a proposito di saluti, adieu Verratti, il Paris Saint-Germain parla con il Barcellona sul tavolo, 100 milioni. Vediamo qualche altra notizia, qui è chiaro in questo periodo si parla di calciomercato, mossa Inter, obiettivo Bernardeschi, mentre sulla destra Gagliardini nel cuore dell'Under. Domani, debutto all'Europeo, l'interista dice, oh buone sensazioni. Bene come sempre con lo sport e con la Gazzetta, concludiamo l'appuntamento del mattino, grazie per averci seguito, buona giornata alle 14, il TG con tutte le ultime notizie. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.